Ciao ragazzi, se avete un trampolino si può fare tantissimi esercizi per i glutei. Già un'eccellente per i glutei e per le gambe è lo skip. Il bello del trampolino è che lo skip lo fai per un minuto senza problemi. Un altro esercizio sul trampolino tassesco sono i jump squat, perché essendo ammortizzato ci protegge l'articolazione e di nuovo lo possiamo fare per un minuto. E' bambino viziato, spingo con entrambe le gambe contro il centro della scuoglia per 30 secondi. Il squat bulgurio è eccellente per le gambe, salvo spingo scendo giù, salvo spingo scendo giù, salvo spingo scendo giù e faccio 30 volte per gamba. Cliometria sul trampolino è pazzesco, possiamo fare anche un jump jack cliometrico che ci aumenta l'intensità ma ci protegge l'articolazione. Provate di fare questi esercizi per almeno 3 circuiti per tonificare le gambe e i glutei quest'estate. Grazie a tutti.